Casi! Vai Riccardi! Vai via Riccardi! Casi! C'è Juventus Inter 23esima serie A Team, il derby d'Italia Ovviamente È live Reaction Pino alla fine Vamos Juve! Bello Molto bene Supera Perisic Entra dentro l'area Pallone su Trocassato La biciclettata di Di Bala E questa è la sua Prima stretta di mano Agli avversari Paolo Provolata Di Bala Con l'attetto Bello Producci Serve Di Bala Iguain Bello A terra E che dirà? Di Bala Che magia Ripa Bala Bala Limite Che arriva Pallato Che ripasso Siiii 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 Ma che gol ma che gol Ma che gol Spiglia Landanovic Spiglia Landanovic Bene, buonasera a tutti A caldo subito A caldo subito ovviamente per il mio canale YouTube Per Marcello Chirico e per tutti gli Juventinazzi di Topland Ciao, buon lunedì da parte del vostro postman Vino a caldo Post partita subito dopo Juventus-Inter Un primo tempo equilibrato Dove loro probabilmente hanno fatto qualcosa più di noi Dato che hanno gestito di più il possesso palla La Juventus ha risposto con due traverse Con due spizzate Una di Manzucic, l'altra di Guain Ma poi soprattutto al 45esimo con il gol Che poi è stato il gol vittoria Il missile terra aria di Guain Quadrado che è un destino Che segni gol decisivi sotto gli occhi sbigottiti Di Antonio Conte Nella ripresa abbiamo gestito Abbiamo sfruttato a più riprese il raddoppio Io cito soltanto un dato L'Inter zero tiri Zero tiri nella ripresa Verso la porta di Buffon E quindi secondo me la vittoria è strameritata Quando parla il campo Quando parla il campo per voi Sono augelli diapetici Sono augelli diapetici Diapetici Vamos Più 7 sulla Roma Che deve giocare Poco ce ne cale Ci proiettiamo subito verso il recupero Con il Crotone Ma è vinta La partita è vinta Abbiamo vinto 28esima consecutiva Allo Juventus Stadium Soprattutto contro di loro È sempre bellissimo Ciao a tutti E fino alla fine VAMO ASIUME Ciao a Marcello VAMO ASIUME